Il grande ritorno della Talpa, uno dei reality show più attesi della televisione italiana, ha finalmente fatto il suo ritorno dopo oltre 15 anni. L'annuncio è stato dato da Mediaset il truma novembre, creando grande entusiasmo tra i fan. Questo programma, che ha segnato un'epoca, si presenta con una formula rinnovata, combinando la tradizionale puntata in prima serata su Canale 5, con contenuti esclusivi disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. La scelta di Mediaset di integrare la narrazione del programma con contenuti online rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ad altri reality, come Il Grande Fratello. Invece di riproporre clip della trasmissione televisiva, la Talpa offre ai telespettatori un'esperienza più immersiva, con video e approfondimenti che arricchiscono la comprensione delle dinamiche di gioco. Questo approccio mira a coinvolgere maggiormente il pubblico, permettendo di scoprire dettagli e retroscena che altrimenti rimarrebbero nascosti. Il cast di questa edizione è composto da nomi noti del panorama televisivo e sportivo italiano, tra cui Gil Rocca, Marco Melandri ed Elisa Di Francisca. Ogni concorrente dovrà affrontare prove impegnative e, come da tradizione, scoprire chi tra loro è il traditore. La prima puntata in prima serata andrà in onda il 5 novembre, mentre su Mediaset Infinity gli appassionati possono già accedere a contenuti esclusivi. La registrazione e il montaggio del programma sono già stati completati, promettendo un ritmo serrato e una colonna sonora avvincente, simile a quella di Temptation Island. Un'altra novità di questa edizione è la Talpa Detection, un formato creato appositamente per la piattaforma online. Questo spin-off offrirà approfondimenti settimanali, anticipando le puntate in prima serata e fornendo dettagli sulle indagini e le dinamiche di gioco. Gli spettatori potranno così immergersi completamente nell'atmosfera del programma, scoprendo ogni settimana nuovi elementi che potrebbero rivelare l'identità del traditore. Alla fine di ogni puntata i concorrenti dovranno affrontare un test di 15 domande.